Negli ultimi tempi si sono diffuse voci sorprendenti riguardanti la presunta gravidanza di Hilarie Blasi e il desiderio di maternità di Belen Rodriguez. Il mondo del gossip è stato scosso da inattese notizie riguardanti le due celebrità. Hilarie Blasi, la celebre presentatrice dell'Isola dei Famosi, sembra essere in dolce attesa del suo attuale compagno, Taschenmuller, secondo quanto affermano gli osservatori più attenti. Nel frattempo, la bellissima argentina Belen Rodriguez, insieme al suo partner Elio Lorenzoni, starebbe cercando con determinazione di concepire un bambino. Le due showgirls, protagoniste indiscusse del gossip italiano degli ultimi anni, hanno attirato l'attenzione dei fan a causa delle loro relazioni amorose che si sono concluse in modo repentino, suscitando grande curiosità. Nel documentario Unica, su Netflix, Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Mentre invece, Belen, ha rivelato su Domenica Inn, di essere stata tradita e di essere caduta in depressione dopo la separazione da Stefano De Martino. Certamente, Belen, adesso, sembra vivere un periodo felice e appagante con Elio Lorenzoni, dopo aver affrontato un periodo davvero difficile. Il loro amore è evidente nei viaggi e nei momenti speciali che stanno condividendo, ridando il sorriso a Belen dopo le sfide passate. Secondo voci attentissime, Hilary sarebbe in dolce attesa di Bastian Muller, così da non aver praticato lo sci che tanto ama durante il viaggio a San Mortiz per evitare cadute che potrebbero nuocere al bambino. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.